così me la ricordo, se no non me la ricordo hai fatto subito la variante? sì ma ho messo un 1 perché non avevo il peso l'ho abbassato troppo dopo non l'ho recuperata 15 volte per capire il peso no un 1 l'ho messo però il resto è bella bella? sì un 1 lì ma è solo quella là in fondo che è un po' cazzuta per usare tanto il peso però è fattibile cazzo se segui uno la fai ma se no non la fai prima ti ho seguito l'ho fatta bene ma adesso ho fatto una cagata hai sbagliato? eh ho sbagliato sbagliato ah di là era ho sbagliato per fare la zona devi seguire uno no non ti do ma muovi ti fallo con la tua segui uno che così la impari se no non la impari però non si dice prova segui prima è abbastanza segui uno se tu vai dietro a uno riesci a capire dove andare se no sbagli vedi che fai il trenino ce la fai a farla perché se no non me la ricordo neanche io si no non mi la ricordo ma se non ho davanti io non me la ricordo vieni fuori segui fai il trenino